come finirà la storia allarme nel presepio quali saranno i tre finali che il nostro amico gianni rodari si è inventato vediamo primo finale al primo accordo della chitarra i pastori alzarono i bastoni e fischiarono ai cani via di qui via subito a chi ha pafido attenta lupo sotto ragazzi rimandiamoli al loro paese anzi mandiamoli a quel paese il pelle rossa senza arretrare di un passo agitò la sua scura di guerra io stare pronto disse aug ma l'aviatore la pensava in un altro modo su disse non è il caso di fare un macello salta nell'apparecchio ragazza e anche tu toro seduto vieni via il motore è acceso ci siete tutti si parte con un rombo il piccolo apparecchio si staccò dal presepio e cominciò a svolazzare intorno per la camera dove andiamo domandò la ragazza stringendosi al petto la chitarra per paura che il vento del volo gliela portasse via ah conosco un magnifico scatolone dove si stava tanto tranquilli anch'io lo conosco anche io sapere aug allora aug allo scatolone eccolo laggiù è ancora aperto meno male festeggeremo per conto nostro lontano da quegli ignoranti aug fece ancora pelle rossa ma non pareva del tutto soddisfatto secondo finale al primo accordo della chitarra i pastori agitarono minacciosamente i loro bastoni va bene va bene sospirò la ragazza la chitarra non vi piace ecco la faccio a pezzi però per favore richiamate i cani prima che mi strappino i pantaloni brava è così che si fa approvò la vecchina delle caldarroste vieni ti darò un po di castagne prima disse la ragazza datemi un po di farina tingeremo di bianco toro seduto così i pastori non avranno più ragione di diventare nervosi a guardarlo ben pensata dissero i pastori ma lui muso rosso è d'accordo aug fece il pelle rossa e si lasciò tingere tranquillamente di bianco e l'aeroplano comandarono i pastori sapete che ne facciamo suggerì l'aviatore gli diamo fuoco così ci scaldiamo ben pensata anche questa tanto più che la notte è fredda il fuoco riportò finalmente la pace sul vecchio presepio intorno al fuoco i pastori al suono dei loro pifferi ballarono la tarantella terzo finale al primo accordo della chitarra i pastori fecero per slanciarsi contro i tre venuti ma una voce autorevole e severa li trattenne pace pace chi ha parlato guardate uno dei tre magi ha lasciato la carovana e sta venendo dalla nostra parte maestà quale onore il mio nome è gaspare non maestà maestà non è un nome ciao gaspare disse la ragazza con la chitarra buonasera figliola ho sentito la tua musica beh non si sentiva un granchè con tutto quel chiasso e ho sentito anche della musica migliore ma la tua non era da buttare via grazie gaspare aug fece il pelle rossa salve anche a te toro seduto o aquila nera o nube tonante o comunque tu voglia essere chiamato e buonasera anche a te pilota e a voi pastori e a te nonnetta ho sentito il profumo delle tue castagne questa ragazzaccia me le voleva portare via su su forse ti è sembrato non ha l'aria di una ladra e questo ti paccio con l'accetta gridarono i pastori ci si presenta il presepio con quel muso rosso avete provato a chiedergli perché è arrivato fin qui ma non c'è bisogno di chiederglielo si vede benissimo voleva fare una strage io avere sentito messaggio disse il pelle rossa pace agli uomini di buona volontà io stare uomo di buona volontà avete sentito disse allora gaspare il messaggio è per tutti è per i bianchi per i rossi per chi va a piedi per chi va in aeroplano per chi suona la zampogna per chi suona la chitarra se odiate chi è diverso da voi vuol dire che del messaggio non avete capito nulla a queste parole fece seguito un lungo silenzio poi se sentì la vecchina che bisbigliava e ragazzina vi piacciono le castagne su prendi e guarda che non te le vendo e te le regalo e voi pilota ne volete e voi signor toro volante scusate non ho capito bene il vostro nome vi piacciono le castagne aug disse il pelle rossa la storia di gianni rodari quale sarà il finale che preferisce l'autore e chissà quale sarà il terzo certo lo sappiamo tutti perché dice il primo è antipatico il secondo finale è ingiusto perché il pelle rossa deve tingersi di bianco no il terzo è quello bello e il terzo è quello che speriamo di rendere reale nel nostro mondo sotto il nostro cielo sapete bimbi questa storia questo terzo finale mi fa pensare alla figura del nostro papa adesso io dico questa cosa magari qualcuno magari tra i grandi si arrabbierà un pochino ma non fa niente cosa volete perché il nostro papa è un po' come 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 si chiama gaspare no perché è un uomo anziano saggio venuto da lontano autorevole che dice pace pace ma cosa continuate a prendervi a sberle pace e sapete siccome dice spesso questa cosa e cerca di aiutare le persone a capirsi tra di loro a qualcuno non sta tanto simpatico qualcuno dice ma questo papa si impiccia troppo degli affari del mondo ma e dico perché che cosa se deve si deve impicciare il papa se non degli affari del mondo cosa deve pensare alle cose degli angeli e no è un personaggio autorevole che ci aiuta a guardare con saggezza alle cose della vita quindi bimbi questa sera vi invito a dire una preghiera per sostenere il nostro papa quest'uomo buono saggio profondo che ci accompagna per il sentire della storia sosteniamolo con il nostro bene e con la nostra piccola preghiera prima di andare a dormire quindi mentre siamo lì a letto oppure mentre siete lì sul divano con papà e mamma diciamo siamo una preghiera una preghiera insieme a loro bene bimbi buonanotte come si spegne così